Sabato 18 giugno il golf è sbarcato in piazza Garibaldi. Un gonfiabile installato dalla federazione italiana golf davanti all'ingresso del comune infatti ha consentito una prova gratuita dell'uso delle mazze. Curiosi e appassionati sono stati assistiti dai maestri della federazione che hanno dato vita ad una lezione introduttiva dando poi tutte le istruzioni necessarie per iniziare a praticare questo sport. Buongiorno sono Germano Pellegrini delegato provinciale della federazione italiana golf. Oggi la città di Parma ci ha ospitato nell'evento del golf con il nostro gonfiabile in piazza Garibaldi grazie all'iniziativa di Parma città europea per lo sport. Il golf oggi a Parma ha raggiunto una quotazione molto alta, un ranking importante. Il club di Parma e della provincia vedi il golf club La Rocca, il Cus Parma e naturalmente anche il golf club di Salso Maggiore. La federazione italiana golf è orgogliosa di poter essere presente oggi a Parma perché per incentivare naturalmente il golf e perché la federazione insiste e vuole assolutamente essere rappresentata nelle varie piazze della regione. Quindi concede oggi a Parma questa opportunità e quindi mi rivolgo a tutti i cittadini di qualunque età di approfittare e di avvicinarsi naturalmente al golf che ha aperto a tutti.